Carissimi, Il calzolero di Finisterre, romanzo storico ambientato negli anni 30, è finalmente disponibile in formato cartaceo nel sito di Fede Cultura per il momento. Vi invito per un viaggio, vi porterò a Madrid, Barcellona, Parigi, Londra, Valencia. Vi porterò da una gita in barca a vela lungo la costa della morte a una corsa automobilistica a Monte Carlo, a una prigione segreta a Valencia. Davvero vi raccomando questo libro, comprandolo potrete sostenere una casa editrice coraggiosa quale Fede Cultura, soprattutto in questo momento difficile. Potrete sostenere me come autore cattolico, voi sapete benissimo che ci sono tante porcherie in televisione, in libreria. Io ho cercato di fare un romanzo che fosse di grande intrattenimento ed essere dei contenuti formativi. Ci ho messo 20 anni, spero di essere riuscita, ma poi me lo direte voi. Grazie a tutti.